Milesi SRL, leader nella fornitura di acciaio inossidabile. La ditta Milesi SRL, con sede a Villa Carcina, frazione Cogozzo, è il naturale proseguo dell'azienda di famiglia che già negli anni 50 si occupava del recupero e commercio metalli. Costituita nel 1990, ha consolidato e continuato la raccolta di metalli, specializzandosi però nel commercio, fino a diventarne l'attività prevalente. Lamiere, nastri a misura e a larghezza commerciale, laminati a caldo e a freddo, quadrotti e bandelle, sono alcuni dei prodotti trattati, tutti esclusivamente in acciaio inossidabile. Azienda moderna e dinamica, la Milesi SRL dispone inoltre di impianti per il taglio e la spianatura, fornendo materiali sviluppati su diverse dimensioni, in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente. Per qualsiasi informazione potete contattare il numero di telefono 030 8901 773, oppure inviare una e-mail all'indirizzo info-at-milesi-srl.it Grazie a tutti.